Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleroma 56, una nuova settimana che si apre con un ospite molto gradito, lo saluto e lo ringrazio per la sua presenza in studio, parliamo del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Alessandro Ridoffi, qui presente in studio. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Impegnato su diversi fronti proprio in questi giorni, oggi presso la Casa dell'Architettura c'è stato un importante incontro del quale tra poco parleremo perché l'Ordine degli Architetti di Roma è in prima fila per quanto riguarda tutto il capitolo della ricostruzione post-terremoto, Presidente. Dunque, noi già all'indomani, al momento delle macerie, abbiamo mandato un'ampella ai nostri iscritti proprio con l'intento di dare una mano, di mettersi al servizio. Ovviamente abbiamo attivato un sistema che è il nostro presidio della protezione civile, noi abbiamo un presidio, siamo il primo ordine in Italia, ormai a 30 anni, a avere questo tipo di attività. I nostri colleghi si sono messi a disposizione, abbiamo iniziato a mandare i primi architetti che hanno operato proprio nell'emergenza, quindi con il ruolo che ci viene affidato, che è quello della compilazione delle schede per il rilevamento del danno. Ma è stata questa l'occasione anche invece per costruire un altro progetto che è stato poi in qualche maniera l'incontro di oggi, che era focalizzato proprio sull'idea di promuovere una cultura nuova sui temi del terremoto o comunque della prevenzione sismica. Quindi andare oltre un'attività proprio diretta. pensiamo solo al fatto che all'Aquila abbiamo avuto 450 colleghi che sono andati a fare questo servizio di compilazione delle schede e oggi attualmente a fronte di 250 richieste 150 sono già attivi sul territorio. Ma il convegno di oggi ha focalizzato, come dicevo, invece su un'attività che è quella di dare un contributo non solo verso le cittadinanze che soffrono in questo momento, ma che vuole in qualche maniera dare, mettere a servizio la conoscenza, la professionalità e la capacità della nostra comunità di architetti per poter dare delle direzioni o comunque delle soluzioni o anche prevenire proprio gli eventi sismici che oggi sempre più ricorrono. Il Presidente Rolfe ci farà accompagnare per l'intera durata della nostra edizione, avremo modo di confrontarci su questo ed altri argomenti che sono di attualità nella nostra città, perché poi effettivamente gli architetti, abbiamo bisogno di loro di una buona architettura per rendere sempre migliore, non soltanto più bella la nostra città, che oggi registra un dato singolare, spostiamo dunque l'attenzione sul Campidoglio, la classifica, il percorso di gradimento registrato dai primi cittadini e in generale dagli amministratori locali del nostro paese. Una indagine che periodicamente viene condotta dall'IPR per conto del Sole 24 Ore e per la Sindaca Raggi non arrivano certo buone notizie. Chiara Pendino e Virginia Raggi, entrambe giovani, entrambe belle, entrambe del Movimento 5 Stelle e soprattutto entrambe vincitrici alle ultime elezioni comunali, ma con destini diversi. A rivelarlo è anche il sondaggio realizzato da IPR Marketing per il Sole 24 Ore sul gradimento dei politici locali da parte dei cittadini. Al primo posto del podio si è piazzata la prima cittadina di Torino, Chiara Pendino, che ha vinto la Governance Fall 2017. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è sprofondata invece in penultima posizione al 103esimo posto. Peggio di lei è solo Maria Rita Rossa, sindaca del PD di Alessandria. Ma entriamo più nel dettaglio. Chiara Pendino ha realizzato una crescita di 7 punti e mezzo rispetto al consenso ottenuto nel giorno dell'elezione lo scorso giugno e ha tenuto il 62% dei voti. Al secondo posto si è piazzato invece il sindaco di Firenze del PD Dario Nardella con il 61%, mentre si è giudicato il terzo posto con il 60,5% l'ex grillino Federico Pizzarotti alla guida del Comune di Parma, uscito definitivamente dal Movimento 5 Stelle a ottobre scorso dopo un braccio di ferro durato 5 mesi. Buono il piazzamento al quarto posto di Damiano Colletta, il primo sindaco non di centrodestra di Latina dal 1993. A pari merito Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, che è risalito dalle posizioni di coda delle ultime edizioni del sondaggio. Sorprende il decimo posto di Clemente Mastella, eletto a giugno sindaco di Benevento, mentre Beppe Sala, primo cittadino di Milano, è trentesimo con il 55% dei consensi. Ma il dato che più balza all'occhio è la caduta verticale della Raggi, che ha perso circa un terzo del consenso ottenuto alle elezioni della scorsa primavera, meno 23,2%, e si è piazzata al penultimo posto con un gradimento del 44% di cittadini. La distanza fra le due sindache ribalta il risultato delle urne, a suo tempo molto più generoso con la Raggi che con l'Appendino, e misura le profonde divergenze nei metodi di amministrare le due città. L'indagine ha infine riguardato anche i presidenti di regione. A primeggiare il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, sul podio con il 60% dei consensi, seguito da Enrico Rossi, del PD e dal presidente della Lombardia Roberto Maroni. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si è collocato al 14esimo posto con un 4,7% in meno rispetto alla data dell'elezione. Dunque, il primo bilancio non certamente positivo in termini di gradimento, stando alle risultanze di questa indagine per la sindaca Raggi. Tra l'altro, Presidente Ridolfi, questi sono stati anche i mesi del terremoto, lo dicevamo nell'esordio di questa edizione del nostro telegiornale, un terremoto che si è fatto sentire in maniera molto sensibile anche nella nostra città. Ecco, da questo punto di vista, su Roma, voi che tipo di monitoraggio avete condotto? Esattamente. Il convegno di oggi ha proprio, come dicevo prima, spostato la nostra azione dal momento dell'emergenza a quello della prevenzione. Il dibattito si è aperto non solo in termini di ricostruzione, anche il tema con cui è stato affrontato Casa Italia, ma appunto quello di un lavoro svolto da oltre 120 architetti che hanno elaborato, divisi in vari ambiti, hanno lavorato su delle questioni che in qualche maniera rappresentano delle possibilità di approccio a questo tema della prevenzione sismica e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio, oltre a quello della ricostruzione. E sono emerse diverse posizioni che sono poi le linee su cui ovviamente noi come ordine professionale intenderemo costruire un documento da portare all'amministrazione. Da prima è quella di ribaltare il sistema e quindi far diventare anche nella cultura della pianificazione ciò che una volta era straordinario nella pianificazione ordinaria, ovvero l'evento sismico che in qualche maniera era un'eccezione e oggi sta diventando sempre più una questione con cui confrontarsi periodicamente, può essere in qualche maniera già valutato in sede di pianificazione urbanistica, quindi far diventare ordinario ciò che era straordinario. Sono stati affrontati in termini anche legislativi quali possono essere anche delle soluzioni rispetto agli ultimi decreti che sono stati fatti proprio anche per la fiscalizzazione e altri tipi di attività. Ma abbiamo anche portato un documento su quello che è il nostro tema principale, oggi gli ordini professionali hanno un ruolo quello di aggiornamento professionale, quindi la formazione dei professionisti e quindi incentrando, anche facendo una programmazione proprio sull'attività futura, cioè quella, la programmazione della cosiddetta offerta formativa in cui tenderemo sempre più a orientare su questi temi. E anche, devo dire, questo anche molto importante, è un'ipotesi anche di presentare una proposta per costituire la cosiddetta CIMU, cioè la CIME, la carta d'identità del manufatto edilizio. Cioè l'idea è quella, dopo il fallimento del fascicolo del fabbricato, di costituire una vera e propria carta d'identità che possa in qualche maniera dare in termini anche di vulnerabilità, di proprio anche consistenza dello stato del patrimonio, sia pubblico che privato, proprio perché oggi, prima ancora di arrivare all'evento sismico che possa in qualche maniera poi produrre dei danni così importanti, possono essere messe in atto di alcune azioni di prevenzione. Torniamo al territorio. Già tempo fa, esattamente lo scorso 31 ottobre, vi raccontammo la storia molto travagliata del nido in terzo municipio della contea degli Hobbit, un nido di fatto diviso in due con una metà perfettamente funzionante e un'altra che invece proprio non riesce ad entrare in funzione. Ma cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa a distanza di mesi, è tornato sul posto Luigi Vittucci. Ci vuole un certo coraggio per portare i bambini qui, ma d'altronde che cosa possiamo fare? Il nido è qui, per cui dobbiamo mandarli per forza qui. Erba alta, materiali di risulta, serpi e ratti, uno scenario che i bambini che frequentano il nido, la contea degli Hobbit, a vigne nuove, si trovano di fronte ogni mattina. La struttura che sorge nell'ex plesso scolastico Uruguay è stata inaugurata nel 2009 e il progetto prevedeva due nidi gemelli serviti da un'unica mensa. Il primo è aperto, mentre il secondo per il quale erano pronti i fondi, con l'avvento di monti e del patto di stabilità, non è stato più realizzato. A oggi dunque la struttura è inutilizzata e destipata di materiali di risulta, monitor, armadi, televisori, risultando potenzialmente pericolosa in caso di incendi per i bambini ospitati nell'edificio adiacente. Inoltre la palestra dell'ex scuola media è fatiscente e si attende da anni la pubblicazione di un bando di gara per la sua assegnazione, a peggiorare la situazione e il totale degrado dell'ambiente circostante. Una situazione denunciata dalla stessa presidente del terzo municipio Capoccioni, che ad agosto pubblicò un video sulla sua pagina Facebook, in cui documentava la situazione della contea degli Hobbit. Seguirono degli interventi di pulizia, ma lo stato di abbandono in cui versa l'area è ancora evidente. Tempo fa non sono potute andare fuori in giardino, perché c'erano i serpenti. Quindi che cosa possiamo fare? Questa è la risposta del municipio alle richieste, insomma alle tante che sono arrivate in questi mesi dal comitato di Vigne Nuove. Diciamo che noi sono anni, più che mesi, che scriviamo al municipio e al dipartimento. Questa volta è arrivata una risposta del dipartimento, dove sostanzialmente dicono sì, vanno spostati i materiali di risulta edili, vanno spostati tutti gli apparecchiatori, monitor e quant'altro all'interno dello stabile. Andrebbe pulita l'aria, ma non hanno i fondi, per cui chiedono all'AMA di provvedere allo smaltimento del materiale all'interno delle aule, dei locali e chiedono comunque anche al municipio di far spostare i materiali di risulta. Però questa è una risposta del 24 ottobre. A questa risposta niente è cambiato, quindi continua la latitanza più totale su questo nido. Contavamo sulla Presidente, perché a parte il video, poi ha fatto un intervento subito dopo l'apertura del nido, quindi i primi di settembre, un intervento con volontari, dove hanno sistemato la parte dove è il nido, quindi hanno tagliato un po' le siepi, hanno fatto qualcosa, ma certo non era un intervento risolutivo. Noi ci aspettavamo poi nel tempo, nei giorni successivi, un altro intervento, magari atto a bonificare una volta per tutte quest'area. La replica del terzo municipio è affidata all'assessore alla scuola Gilberto Calenda. Recentemente spiega, è stato sistemato un cornicione pericolante del nido, che ha dato così l'opportunità ai bambini di usufruire del giardino precedentemente interdetto. Sulla potatura degli alberi e sulla manutenzione del verde, Calenda precisa che durante le festività natalizie è stato effettuato un sopralluogo dal municipio. I costi sono alti, ammette l'assessore, e non ci saranno risorse disponibili fino all'approvazione del bilancio capitolino. Bisognerà attendere ancora un altro po' per vedere rifiorire il nido della contea degli Hobbit. Adesso mi rivolgo al professionista, così la coinvolgiamo anche nei temi del nostro DG. Quando vede e ascolta storie di questo tipo, il professionista cosa pensa subito, Presidente? Ma questo, come posso dire, purtroppo rappresenta anche quello che noi in qualche maniera ci siamo sempre battuti, è il degrado della nostra città, per cui anche dei professionisti in grado di fronte all'amministrazione che in qualche maniera ha delle difficoltà, ma anche delle necessità di poter intervenire. Noi forniamo la nostra professionalità, la nostra capacità, ma spesso l'amministrazione proprio per problemi burocratici, per problemi legati a un altro tipo di natura, non riesce poi in qualche maniera a dare delle risposte concrete. Come si batte la burocrazia? Questo è un tema su cui è la madre delle nostre battaglie. Noi da molto tempo, ormai da dieci anni, abbiamo lavorato su questo problema, perché, tanto per darle un esempio, noi abbiamo un'indagine che dice che un architetto a Roma impiega più del 70% del suo tempo lavorativo a fare, a svolgere pratiche burocratiche, il restante tempo a fare l'architetto. Ovviamente se noi, il nostro impegno era a cercare in qualche maniera di ribaltare queste percentuali, A per consentire ai cittadini di avere una città migliore e ai nostri colleghi di poter fare una professione più dignitosa. L'idea era partita, abbiamo costruito un progetto che fu valutato come uno dei più importanti a livello nazionale strategico, che era la scrivania virtuale, che consentiva ai professionisti e architetti di poter espletare le pratiche edilizie online, con un sistema che in qualche maniera era anche intelligente e quindi costruiva la pratica edilizia, senza evitare lunghe aggine o evitare possibilità che oggi ognuno di noi, ogni professionista deve subire per andare agli uffici dell'amministrazione. Ovviamente in molti anni abbiamo trovato, e storie non molto recenti hanno dimostrato che noi trovavamo una barriera, proprio perché andavamo in qualche maniera a costruire, a mettere delle mine a un sistema che invece aveva una sua logica, perché il sistema della scrivania era basato sull'efficienza, sulla trasparenza, sulla facilità anche di avere dei titoli edilizi, che è l'altro tema per cui affligge anche la nostra città, perché molti imprenditori, anche parlo che hanno volontà di fare investimenti, parlo anche di investitori che non appartengono alla nostra nazione, vengono disorientati o comunque non fanno più investimenti, proprio perché trovano nella mancanza di tempi certi, di trasparenza, degli ostacoli importanti e i loro investimenti vanno a farne in altri paesi e questo per noi è un grosso problema. Notizia che è arrivata proprio nel pomeriggio, che leggiamo dal sito del messaggero, allarme smog, tornano le domeniche a piedi, di fatto il blocco del traffico, Raggi firma l'ordinanza, domenica stop alla circolazione delle auto, arriva la prima domenica ecologica del 2017, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha infatti firmato un'ordinanza con cui dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i mezzi a motore della ZTL fascia verde del PGTU, dalle 7.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 20.30, naturalmente poi sul sito di Roma Capitale possono essere consultate anche tutte le eccezioni che riguardano questo divieto. È particolarmente ricca stasera la pagina della cronaca, intanto il primo servizio è stata infatti arrestata, la cosiddetta banda del Tombino. È stata smascherata la banda del Tombino che da novembre scorso ha messo a segno decine di colpi a Roma Nord tra Ponte Milvio e Corso Francia. Dopo una lunga attività di indagine, i carabinieri, avvalendosi anche del nucleo cinofili, hanno fermato due cittadini romeni, un 22enne e un 26enne, entrambi con precedenti, a cui gli uomini delle forze dell'ordine hanno notificato un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati rispettivamente di furto e ricettazione. La banda era balzata agli onori della cronaca grazie alla rapida escalation di furti commessi con l'utilizzo di chiusini di tombini in ghisa, asportati lungo le strade della capitale che venivano scaraventati sulle vetrine dei loro obiettivi per aprire una breccia e derubarli. Per risolvere il caso sono state fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi dei predati che hanno immortalato le gesta dei banditi. Nel corso delle operazioni che hanno portato al fermo dei cittadini romeni, sono stati rinvenuti e sequestrati gli abiti utilizzati durante i colpi. Buona parte della rifurtiva è oltre 13 mila euro in contanti in un'abitazione della zona di prima porta che la banda utilizzava per stoccare i proventi delle loro scorribande. Uno sguardo dal Colosseo, prendiamo come spunto anche la home page del sito di Repubblica, si parla di quello che è accaduto proprio nella notte, vandali al Colosseo scritte su un pilastro, in due cercano di scavalcare i cancelli di notte, uno di loro è caduto, si è fratturato il bacino, eravamo ubriachi, Franceschini che dice servono pene più severe, in questo caso erano turisti, Presidente Ridolfi, però effettivamente manca proprio una cultura per quello che dovrebbe essere un patrimonio da tutelare, a cominciare da chi la vive questa città ma anche da chi viene a visitarla. Io direi che oltre a tutelare è da valorizzare, uno dei temi che abbiamo anche affrontato e affrontiamo quotidianamente è proprio la mancanza di una visione proprio anche di promozione proprio della valorizzazione del nostro patrimonio. Io portavo un po' di tempo fa questo esempio, avevo letto su un giornale che il Dubai Mall, che è un grande centro commerciale di Dubai, fa 44 milioni di visitatori l'anno e Colosseo prende spunto a quello che diceva che forse il monumento mi sembra riconosciuto tra i più importanti al mondo non arriva intorno ai 10 milioni, forse qualcosa di meno. Ma questo perché? Perché obiettivamente per esempio avevo visto che a fronte di questi visitatori c'è una logica, ci sono dei voli che passano per Dubai, per chi vuole andare nell'Oriente, che fanno uno scalo tecnico e senza pagare la sosta, quindi la gente scende e a Dubai, non conosco molto bene, ma va a vedere il Dubai Mall. Oggi a Roma, che è in qualche maniera la città che detiene il patrimonio storico, artistico e archeologico più importante al mondo, ad esempio se volessi andare a visitare Ostia Antica, che fa 200 mila visitatori l'anno, neanche hai delle indicazioni precise su come arrivarci. Quello che in qualche maniera rappresenta per Dubai il petrolio, per noi è rappresentato la nostra ricchezza e la nostra città e noi non abbiamo un programma di valorizzazione che possa in qualche maniera rendere la nostra città molto più appetibile anche per i turisti che vengono e quindi valorizzare quello che è il patrimonio o comunque uno dei valori più importanti della nostra città. Una singolare truffa è stata portata oggi alla luce, le forze dell'ordine riguardava la Cotral, vediamo di che si tratta. Truccavano le manutenzioni degli autobus delle linee regionali Cotral facendo risultare di aver riparato Pullman che invece continuavano a circolare senza i prescritti standard di sicurezza o peggio ancora subivano continui gasti. I finanziari del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato questa mattina il titolare di una società affidataria dell'appalto per la manutenzione e la riparazione degli autobus di linea regionale per truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture. Le indagini, durate oltre due anni, hanno fatto emergere una reiterata e spudorata condotta fraudolenta realizzata da più società appaltatrici. Con la complicità di alcuni dipendenti infideli Cotral, certificavano la corretta esecuzione delle manutenzioni degli autobus di linea, incassando così somme per prestazioni mai eseguite. Complessivamente sono 50 le persone indagate e nei loro confronti a vario titolo è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di attentata alla sicurezza dei trasporti, truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, abuso d'ufficio e falso. Le indagini sono partite in seguito ad una denuncia presentata dai vertici del Cotral, allarmati dai continui guasti alle autobus che provocavano continui disservizi e disagi ai cittadini del Lazio. Presidente Riofi, so che è in preparazione un importante appuntamento. Il prossimo 27 gennaio presenterete qualcosa di significativo per la città. Poi a che punto è anche l'interlocuzione con la nuova giunta della Sindaca Raggi? Dunque, il 27 gennaio noi faremo un convegno partendo da un'importante ricerca che noi abbiamo commissionato all'Istituto Cresme, l'Istituto di ricerca Cresme. Questa ricerca porta a confronto lo studio, ho fatto su 30 città al mondo, in particolare in Europa, su quello che in qualche maniera stanno programmando, progettando al 2030, al 2050. Per darle alcuni dati, il 55% della ricchezza mondiale nel 2050 sarà concentrato in 600 città. Quindi la città diventa il luogo dove investire. Anche i dati di crescita della popolazione nelle città dicono che c'è un fenomeno di inurbamento, di ritorno alla città, perché la città è il luogo dove ci sono più servizi, eccetera. Londra progetta una grande struttura, una grande fogna, un collettore di un diametro intorno agli 8 metri che dovrà essere utilizzato, che sarà funzionale a uno sviluppo che nel 2050 viene previsto per un milione e mezzo di abitazioni nuove. La popolazione passerà dagli attuali 8 milioni a 11 milioni di abitanti e quindi si preparano. A Parigi, la Nouveau Paris, costruiscono 250 chilometri di nuove metropolitane, proprio perché la città si sta espandendo. Cosa curiosa, chiedono alle aziende italiane se hanno disponibili delle talpe, i macchinari per scavare i condotti della metropolitana, perché in questo momento ce l'hanno tutti impegnati sotto terra e quindi hanno necessità di sbrigarsi, anche perché la loro programmazione al 2030, ma mi sembra che abbiano detto che se venissero assegnate le Olimpiadi del 2025 si impegnano a anticipare anche questi lavori per dare una città più efficiente. In questo momento Roma è particolarmente indietro su questi aspetti e partendo da un presupposto che un architetto è stato definito il medico della città, noi in quanto riteniamo che in questo momento il nostro paziente è messo piuttosto male, abbiamo fatto senso al nostro valore etico, professionale eccetera e vogliamo iniziare a costituire un programma per la nostra città. Abbiamo parlato di paziente, abbiamo parlato di medici, ma i primari sono quelli giusti? I primari rappresentano veramente oggi la nostra comunità, io ho avuto anche modo di portare, di presentare, promuovere la professionalità degli nostri architetti in diverse parti nel mondo e devo dire che ovunque noi andiamo i nostri architetti sono vincenti, vincono perché hanno una capacità e una professionalità che in qualche maniera li contraddistingue positivamente rispetto, quindi è proprio il problema, è diverso, è perché i nostri architetti che sono poi i primari nelle altre parti del mondo non riescono poi in qualche maniera ad avere la possibilità di operare e dare soluzioni per la nostra città. Chiudo come abbiamo aperto questo DG, ha visto il gradimento non certo lusinghiero registrato dalla Sindaca Raggi nella indagine condotta dall'IPR per il Sole 24 Ore, voi siete in linea con quel giudizio o il vostro è una valutazione differente nei confronti della Sindaca? Dunque la nostra valutazione, noi rappresentiamo una comunità che in qualche maniera si misura con i problemi della città e ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione, quindi è un giudizio che in qualche maniera esula i nostri compiti e la nostra attività, noi riteniamo comunque che in questo momento particolarmente difficile i nostri architetti a Roma possono essere un'opportunità per poter dare una nuova soluzione sugli asset della mobilità, della cultura e della rigenerazione urbana di cui la nostra città ha necessità per restituire una città migliore a tutti i nostri cittadini. Non c'è bisogno di essere archistare insomma per fare tutto questo? Assolutamente. Grazie, grazie al Presidente, loro negli architetti di Roma, Alessandro Ridolfi e buon lavoro.